Un protocollo d'intesa tra gli psicologi della campagna e l'Associazione Spazio alla Responsabilità per promuovere un modello di sviluppo inclusivo che coniughi da un lato la sostenibilità economica, dall'altro quella sociale e ambientale. Un tavolo di lavoro costituito da associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali, mondo del profit e del no profit che promuoveranno la responsabilità sociale attraverso la costruzione di percorsi di sensibilizzazione e azioni di stimolo rivolte alle istituzioni locali come spiega il presidente dell'ordine degli psicologi campano, Antonella Bozzaotra. Noi siamo insieme agli economisti, siamo insieme a quelli che si occupano di gestione delle imprese per un motivo molto semplice perché pensiamo che lavorare in sinergia e lavorare guardando alle risorse produce sviluppo nelle comunità e il nostro impegno è sempre quello di produrre, di lavorare per lo sviluppo della comunità alla quale apparteniamo. L'ordine degli psicologi e l'Associazione Spazio alla Responsabilità suggelano così una collaborazione nata lo scorso anno in occasione della seconda edizione del Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa. Ora, per effetto di questa partnership, gli psicologi campani offriranno il proprio contributo nella realizzazione di politiche condivise in tema di responsabilità sociale, come ben spiega la presidente dell'Associazione Raffaella Papa. Gli psicologi rappresentano una professionalità molto importante, molto importante perché si rivolgono a diversi tipi di collettività, si rivolgono al cittadino, alla famiglia, si rivolgono all'imprenditore, al lavoratore, quindi hanno a che fare con una serie di soggetti che devono in qualche modo acquisire e saper gestire il cambiamento perché qua parliamo proprio di un cambio di approccio al proprio modo e al proprio stile di vita. Quindi è un cambiamento che deve essere gestito, guidato, supportato.